La terra esiste da 5-6 miliardi di anni, intanto stanno arrivando con il sacchetto, l'ultimo esperimento che facciamo, seguitemi. Arrivano verso mezzanotte, io si apriamo bottiglie sfumante, cioè che significa? Che significa? Noi stiamo qua praticamente tra nandecco. Benvenuto. Dopo tre ore, si sono riusciti, bravi. A presto. Musica Musica Grazie. 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 Grazie.